Un incendio provocato da una bombola d'ossigeno liquido malfunzionante. Sarebbe questo, stando ai primi accertamenti, la causa della morte di una donna di 78 anni, trovata carbonizzata nella tarda serata di ieri all'interno del suo appartamento di via Zanotti Bianchi, nel quartiere Picone di Bari. A fare la macabra scoperta è stato il figlio convivente dell'anziana, che non era in casa al momento dell'incidente. Accortosi dell'accaduto, l'uomo ha allertato immediatamente i soccorsi, ma per la 78enne non c'è stato nulla da fare. A loro arrivo i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Con loro, sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della sezione volanti della questura di Bari. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le fiamme, sprigionatesi dall'impianto di ossigeno che la vittima teneva in camera per motivi di salute, si sarebbero propagate a dei vestiti e poi a parte dell'arredamento. È probabile che la bombola si trovasse vicina ad una stufa. A nulla sarebbe servito il disperato tentativo dell'anziana di rifugiarsi in bagno.